Musica 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 Ho trovato la maestro e l'ho acquistata perché mi è piaciuta molto la precisione. La maestro è incredibile e il leader è molto soft, quindi puoi fare quello che vuoi fare. È molto più intuitiva. Questa è la prima cosa che ho notato e anche l'estetica che è molto importante. Sembrava un vero e proprio computer. Ho imparato una bellissima tecnica tridimensionale sulla dermapigmetazione labbra. Ho imparato la tecnica del sopracciglio mediterraneo, molto interessante e molto bene questo lavoro perché la maggior parte delle clienti hanno questa posizione. Quest'anno Biotech va a Ruba. È stata una signora. Sì, 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 che ti stipulato ha detto che lei l'ha visto, vedi i soldi. Meglio che il cantino a fatturare qua. Ma chi ha detto Biotech 1, 2, 3? Chi l'ha detto? Volevano solo un rapporto, capito? Stanno facendo un rapporto con tutti. Tutti hanno apprezzato la qualità dei prodotti italiani bio. Vai! Non è la civice, non è la civice, la civice, la civice, la civice. Io prendo la décolleté e faccio la spiaggia. La décolleté? La décolleté? E fanno come legale. Sapone ribaltabile. Tecnologia del terzo millennio. Tutta la sera a Milano, a cena con me, pago io.